Stasera ci ha deciso di andare a parlare di chi prende, capito come è? Ogn'altro che vanno a parlare di vasciutto. Ogn'altro che vanno a parlare. Per un quadro, per un quadro, per un quadro. Si fa che esiste in... Per un quadro. Per un quadro, per un quadro. Per un quadro. Per un quadro. E dimostrano. Per un quadro, per un quadro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.